Nella testa di Presidente Bosco, mia e del direttore Crespini, c'era un preciso profilo di un allenatore giovane, emergente, preparato e che negli ultimi anni ha fatto bene. Già con i primi allenamenti devo dire che si è presentato molto bene e speriamo che il nostro progetto può andare avanti come abbiamo pensato e come desideriamo. Devo dire che questa scelta è sempre una scelta a medio-lungo termine, questa società pensa sempre a medio-lungo termine. Avevo una gran voglia di tornare sul campo, ho avuto la fortuna e di questo devo ringraziare il direttore e il presidente che mi hanno proposto questo progetto importante dove mi sono catapultato tutto me stesso. Sinceramente io l'ho trovata abbastanza bene, si sono messi subito tutti a completa disposizione, questi due giorni abbiamo lavorato tanto perché giustamente non abbiamo tanto tempo per conoscersi e anche perché poi la prossima avremo il tour de force, però li ho trovati belli pimpanti e belli vogliosi di fare un qualcosa di importante. Io la Vispeso l'ho seguita perché all'inizio ho seguito il mercato e secondo me aveva fatto una buona squadra, una squadra importante. Sicuramente i risultati non sono consapevoli alle aspettative che la società si è prefissata e per questo c'è stato questo cambio. Però ho visto la partita a Verona, sono andato a vederla con la Virtus, ho visto una squadra un po' spaventata, con delle qualità, con delle buone qualità, solo un po' spaventata, ma dovuto al fatto che alla fine sono ragazzi e quando le cose vengono un po' a mancare viene meno quella tranquillità che serve per giocare. Questo cambio spero che gli ridia quello stimolo in più per tornare su livelli importanti. Io lavoro molto, per me si deve aggredire sempre in avanti e io il mio credo è aggredire sempre in avanti, avere una squadra sempre corta sui 30 metri, perché secondo me sui 30 metri c'è un po' di tutto. È normale che dobbiamo avere coraggio, quello purtroppo quando ti vengono a mancare i risultati la prima cosa che fai è scappi in difesa alla porta, però secondo me si deve, secondo il mio credo, poi ognuno la pensa in modo proprio, la difesa deve essere alta, bisogna essere più lontani possibile dalla porta, bisogna aggredire in avanti sempre. Poi è normale che bisogna vedere anche i momenti, bisogna analizzare i momenti e la situazione in cui ti trovi.